ben trovati nell'angolo dello sport mentre oddo da parte sua carica ai tifosi dicendo che crede nella promozione diretta e soprattutto considerando anche che i punti di distacco non sono tantissimi per lo meno per quanto riguarda la seconda classificata Cagliari sono sei punti soltanto e otto con il Crotone c'è da dire comunque che nel girone di andata il Pescara è stato capace di battere e il Crotone e il Cagliari quindi potrebbe ripetersi anche se però queste due partite saranno giocate in trasferta però mentre oddo carica la squadra i due massimi dirigenti della Pescara Calcio ancorché uno dei due Danilo Iannascoli sia dimissionario resta il fatto che questi due dirigenti stanno operando sotto traccia da una parte c'è Daniele Sebastiani che ha rimandato alla ricapitalizzazione dicendo che non gli servirà perché ci sono altre possibilità, altre opportunità per dirimere le questioni interne per risolvere anche l'annullamento del passivo dall'altra parte c'è Danilo Iannascoli che anche se preso dalla sua squadra di calcio a 5 che tra poche settimane sarà impegnata la squadra nella fase finale europea quindi un grossissimo traguardo di grande prestigio almeno per quanto attiene il discorso del calcio a 5 per quanto riguarda il calcio invece a 11 non è che Danilo Iannascoli stia in una fase dormiente come si usa dire sta lavorando e operando per far sì che vengano rinverdite certe situazioni e soprattutto vengano concretizzate certe sue aspirazioni che cosa potrebbe succedere in definitiva? ma in definitiva il campionato andrà avanti fino alla fine di maggio si spera che con il risultato di una promozione se il Pescara verrà promosso in Serie A è chiaro che Daniele Sebastiani avrà risolto gran parte dei suoi problemi perché ci sono i premi di promozione e poi ci sono le vendite che comunque saranno fatte qualcuno dice però dovrà fare anche gli acquisti per l'eventuale Serie A questo è un altro tipo di discorso che verrà lasciato a dopo perché in definitiva tutti insegnano che squadre come il Pescara sono portate necessariamente a fare di necessità virtù per cui fare lo yo-yo, si sale e si scende e nel salire e scendere tra premio di salita e paragadute di discesa ci sono tanti soldini da sistemare se invece facendo gli scongiuri del caso da tifoso voi, io da cronista vi racconto soltanto i fatti e li commento nel caso il Pescara non dovesse andare in Serie A beh allora i problemi che al momento ci sono e che sembrano congelati ritornerebbero in auge e in maniera piuttosto pesante allora a quel punto l'unica valvola di sicurezza per il Pescara potrebbe essere la costruzione del nuovo stadio con i suoi 40 milioni e passa di euro a disposizione con l'appoggio dichiarato ufficialmente da parte di politici importanti come il Presidente della Regione e il Sindaco di Pescara e soprattutto con la presenza di qualche operatore certo non ci saranno tutti quegli operatori che sono stati convocati a pranzo nel travocco dei Marinelli perché già ho avuto voci dirette di persone che sono rimaste scocciate e scioccate dall'agguato mediatico che si è venuto ad avere perché in definitiva pensavano di fare un incontro segreto quasi alla Carbonara e si sono ritrovati a piena pagina con tanto di fotografie sul giornale Il Centro con lo scoop fatto dal collega Di Marzio comunque sia, anche se se ne parla poco è in fibrillazione tutta la questione societaria possiamo chiudere qui un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre da Gianni Lussoso un ringraziamento al cameraman Adriano Masciarelli e anche al regista Leo Di Blasio appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport e anche al prossimo episodio